Buon pomeriggio amici di BPTV, le squadre stanno già entrando in campo pronte per darsi battaglia nella sfida che vedrà contrapposte l'Accademia Pavese Padroni di Casa e l'Hardor Lazzate sfida molto importante in termini di classifica in particolar modo per i padroni di casa che cercano di allontanarsi dalle zone calde della classifica arriva nel frattempo il canonico fisco dell'arbitro che sancisce il saluto al pubblico e le prime attività che anticipano il match maglia blu per l'Hardor Lazzate, maglia nera invece per l'Accademia Pavese primo pallone che sarà per l'Hardor inizia adesso la sfida con gli ospiti che partono subito all'attacco clima molto freddo oggi qui in pochi minuti palla verticale a cercare Arteria che prende posizione Arteria prova a girarsi va giù ed è calcio di rigore ha dato il rigore Bertin, Filadelfia si lamenta col quarto uomo ed è subito svolta per la partita quando siamo praticamente al sesto minuto tante lamentele parte il numero 8 Artaria col destro indovina l'angolo aglio ma non basta subito in vantaggio l'Hardor con il gol di Luca, Flavio, Artaria 1-0 Artaria subito avanti il mercantiale battuta verso Bianchi che prova a gestire un pallone non facile lo fa filtrare bene verso Sandrini che può entrare in area di rigore il cross di Sandrini sul secondo pallone c'è di Castri che controlla il calcio Alio ti salva in qualche modo l'Hardor che prova addirittura a riportire con Artaria che anticipa a Filadelfia e accelera in mezzo c'è Bianchi servito, Bianchi in area di rigore va giù ed è credo punizione Artaria si lamenta perché vorrebbe il rigore espulso, espulso, espulso di Colabernini Bianchi in 10 l'Accademia, Bianchi ha accelerato, ha tagliato la strada al numero 4 che si dispera certo è che per l'Accademia che arrivava da un 5-1 pesante subito non è una situazione facile parte il destro sul palo del portiere, ci ha provato Nicolo Guanziroli Artaria invece dovrà cercare di alzare i ritmi per provare subito a aggredire sportivamente parlando l'avversario parte la traiettoria di Provasio morbida sul secondo palo dove la tocca Zenga che alza cercando Zenga che fa sponda, Dio in area di rigore, Dio sbaglia ancora Dio che non segna per un salvataggio sulla linea di borsa, c'era comunque un fuorigioco sulla destra c'è Sandrini che va dentro ancora da Bonfanti, in area di rigore, Bonfanti a rimorchio Velai con un grande intervento salvatuto, arriva il cross in mezzo, Artaria la mette giù è escluso sul risultato di 1-0 per l'hardor, gol in apertura di primo tempo, siglato su rigore da Artaria, rigore molto contestato, Cadena Pavese che è in 10 uomini, espulso poco prima del ventesimo Bernini per farlo da ultimo uomo al limite dell'area, Cadena Pavese che ha ben giocato soprattutto da un punto di vista caratteriale, questa partita ha creato qualche presupposto pericoloso, è andata anche molto vicino a pareggiare la partita nel finale con un'occasionissima capitata di O, ma che ha rischiato in contropiede con l'hardor che ha avuto qualche occasione in ripartenza, la salita sulla destra di Bonfanti che va dentro, Tommassone difende, di fatto però serve Bianchi che la mette giù e calcia con l'esterno, colpisce male, palla sul fondo occasione per l'hardor Lazzate, non precisissimo, quindi prova a mettere in fuorigioco gli avversari parte oltre la linea di O, gli altri tutti in posizione apparentemente regolare, provaso in mezzo, c'è un uomo a terra, non c'è un fischio arbitrale ma c'è soprattutto l'intervento decisivo da difesa dell'hardor che ora prova a ripartire, una che sale, cambio gioco per Artaria che la mette giù, vediamo se andrà la bandierina o cercherà di puntare Velai per andare in porta, punta Velai, rientra Artaria che viene chiusa sulla seconda palla, c'è ancora però l'hardor, ma non c'è più tempo, l'hardor Lazzate soffrendo, si porta a casa una partita difficilissima, batte 1-0 l'Accademia Pavesi in trasferta, decisivo, il rigore in apertura di Artaria.